Che ci racconti? Oh, metti qui da un fiato, no, ti muti. No, io cercherò di dare tutto a questa squadra. Comanda davvero la salvezione, per favore. Ma come si trova in un'azione nuova? I giocatori nuovi, la lingua italiana, che ancora non è al meglio. No, bene. Vado le canali.